...e sue malefatte con degli indovinelli, così che a Gotham lo chiamano l'enigmista. A quanto pare lei e Batman avete un nemico comune. È arrivato con la posta del mattino. Noi otto andiamo sempre avanti e indietro mai, per salvare i nostri regnanti da pericoli e guai. I pedoni degli scacchi, orologio, fiammifere, tutti oggetti materiali costruiti dall'uomo. Di piccolo formato e di scarso peso. Ma qual è il nesso? Con il dovuto rispetto, signore, è per questo che lo chiamano l'enigmista. Grazie.